Illumina le piazze pugliesi insieme ad Alan Palmieri con il battiti live, dalla bellezza mozzafiato e dalla simpatia indiscussa, parliamo proprio di lei Elisabetta Gregoraci. Nel corso della carriera ha dato prova di essere una brava conduttrice oltre che bellissima modella, e ha condotto vari programmi come Made in Sud. Fondamentale è stata la sua partecipazione al GF VIP che ha fatto chiacchierare parecchio il mondo del gossip. In molti sono curiosi di sapere la cifra che percepisce di mantenimento da Flavio Briatore.Elisabetta, come già anticipato, è tornata al timone del Battiti Live, programma musicale che conduce in tutte le piazze pugliesi insieme ad Alan Palmieri. Per la prima puntata nella piazza di Bari, la donna ha optato per un vestito giallo in pizzo con uno chignon molto elegante. Molti hanno notato che è ancora troppo impacciata sul palco tanto da twittare diversi messaggi non proprio positivi. Le GF non l'hanno assolutamente aiutata a combattere gli haters come Volevo Solo Essere Felici al posto di Volevamo Solo Essere Felici di Francesco Gabbani, oppure il nome di Alvaro Soler pronunciato come Alvaro Soleil. In molti hanno insinuato, poi c'è qualcuno che si chiede perché faccia solo questo programma in tv. Nel corso delle puntate, Elisabetta darà prova di essere amata da molti fan, e spettatori che la seguono e amano la sua solarità e semplicità. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, ella è stata legata all'imprenditore Flavio Briatore e dalla loro storia è nato Nathan Falco, il loro unico figlio a cui la donna è particolarmente legata. In una intervista a Verissimo, la donna ha parlato della sofferenza che ha provato nel terminare la storia con l'imprenditore affermando, Ho sofferto tanto. Nella nostra relazione gli errori più grandi sono stati commessi da lui, quando l'ha capito era ormai troppo tardi. Sono stata una grande compagna di vita annullando anche me stessa. La bella Elisabetta è stata legata ad uno degli imprenditori più influenti e ricchi del pianeta, Flavio Briatore. In molti è giunta la curiosità di sapere quanto versa di alimenti Flavio alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci. Secondo il sito Controcultura, la cifra che versa Briatore per il mantenimento del figlio Nathan si aggira intorno agli 8.000 euro al mese, senza contare le spese extra. Cifre abbastanza alte che permettono alla stessa Gregoraci di vivere una vita più che dignitosa. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.